Natalino, che spesso viene anche doppiato, ma perché ti doppiano? Non lo so! Senti, una cosa, scusa, prima che tu vada avanti, anzi che inizi, non ho ancora detto nulla, tanto ti doppiano, quindi fai così con la bocca, poi parlo io, dai. No, volevo dire che hanno fatto una ricerca su Zellig, hanno scoperto che si chiama Target, insomma, la gente che ci segue sono dei ragazzini, quindi, no, lo dicevo a te, non essere, sei un attore porno, ma sì, un signore. Ah! Non so mica una signora, ma com'è che vuoi? No, no, non essere... Eh? Cioè, sì, gentleman, sì. Ah! Ero qua per parlare dei film di la settimana della mia casa di produzione, la lurido film. Ecco, già lurido film, siamo borderline in quanto a scurilità. Com'è che parla sto fanno? Borderline. Va bene, i ragazzi che ci seguono lo sanno, io no, ma a caso loro sì. Scusa, mi è scappato. Dimmi, che cosa hai girato? È un film ambientato indentro in un agriturismo. E nella sera... Serra. Esatto, nella sera, dicono, sera, esatto. Serra. Nella sera... Serra. Siamo dicendo la stessa cosa. Siamo in due gemelli. Siete. Due gemelli che si chiamano Felice e Fortunato. Fortunato sono io. Beh, è un film... Questo mio gemello Felice, ci diamo i turmi, che lui, chissà perché, vuol cominciare dopo mesanotte. Ma poi si scopre che perché dopo mesanotte arriva nella sera... Serra? Il stagliere. Lo. Il stagliere. Lo. Il quale, diciamo così, mentre che Felice fa finta così... Non fare gesti. Ah, no, ti mette a posto due vasi di gerani. Non fare... Il stagliere, diciamo così, si diverte alle sue spalle. Eh, come vabbè, come vabbè, come vabbè, ragazzini, si diverte, è felice, quindi si diverte. Ma alle sue amiche mie. Tu sei fortunato, quindi... Esatto. E io... Non ti tange il problema... C'è una sera... Ah. C'è una sera... Colpo di scena. ...che mi trattengo nella sera un po' troppo. Dopo la mesanotte. Nel mentre che sto piantando due bulbi, di non ti scordare di me... Non fare gesti. Riva il stagliere! Che anche lui si diverte alle mie spalle. Vabbè, 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 paziente. Vabbè. Però, però... È un burattino, non è... Però... Si incorge, si incorge che la voce è diversa perché io protestavo anche. E lui mi fa, ma te non sei mica felice? Non sono felice neanche un po', ci ho detto. Giusto, perché lui... E da quel giorno in poi mi chiamano infortunato. Ecco, diciamo... Ecco, il titolo... Non voglio saperlo, il titolo. Lo diciamo. Il titolo è Chiedimi se sono felice prima. Questo è il film della settimana che andremo a vedere. Della Lurido Film. Della Lurido Film. Parodia di Chiedimi se sono felice.